Dal 22 febbraio ad oggi 450 autotrasportatori multati dalla Polizia Municipale per aver violato l'ordinanza che non consente il passaggio di mezzi pesanti nelle vie del centro di Messina, verbali quasi tutti elevati in prossimità della Rada San Francesco, che rimane, al di là dei proclami e nonostante la realizzazione di un porto dedicato nel 2006, quello di tre mestieri, uno dei punti di riferimento per i camionisti che si imbarcano per attraversare lo stretto di Messina. Sono i numeri a riferire in maniera netta e senza equivoci che i rischi connessi alla presenza dei tir in città sono ancora presenti. Da venerdì alla mattinata di oggi sono stati sanzionati 266 autotrasportatori e non è il ridotto funzionamento della prodo di Messina Sud a rincidere sulle cifre, perché l'unica deroga concessa negli ultimi giorni è stata quella di ieri sera tra le 18 e le 22. Inoltre, come abbiamo ampiamente dimostrato con i nostri servizi, anche con le invasature di tre mestieri a pieno regime e tir sul viale boccette dalla rada San Francesco ci sono sempre stati.